Bella ragazzi, prima del video mi raccomando non dimenticate di fare un salto nel primo link in descrizione quello di Instant Gaming dove troverete un sacco di videogiochi a prezzi scontatissimi compresi anche i bundle di Fortnite ragazzi, mi raccomando primo link in descrizione Instant Gaming Ehi, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono Xyuder e oggi ragazzi voglio parlarvi di un sacco di novità riguardanti l'evento che sta per arrivare di Fortnite un evento incredibile ragazzi, un evento che davvero cambierà il corso di ciò che stiamo vedendo e di come stiamo giocando nel nostro battle royale, nella nostra season numero 7 oggi appunto ragazzi vi farò vedere un po' di cose interessanti che non vi ho mostrato nel video di ieri parleremo anche dei nuovi mostri ragazzi, ci sono dei file e delle immagini ovviamente per voi che vi aspettano e una bella vagonata prepotente di leaks per tenervi sempre aggiornati con tutto quello che succede sul panorama mondiale di Fortnite riguardante i leaks ma mi raccomando ragazzi, un bel pollicione in su, se vi piacciono i miei video non dimenticate di iscrivervi al canale e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica visto che YouTube non le manda relativa a tutti i miei video di Fortnite siamo sempre ragazzi con gli amici di Fortnite Italy, gruppo Telegram che parla di news su Fortnite vi invito ad andare a dargli un'occhiata in descrizione ma prima ragazzi, la domanda, la domanda è importantissima è importantissima, ve la voglio fare, i vostri commenti qui sotto mi raccomando che sono importanti a che livello stagionale sei? dai, dove siete arrivati ragazzi? oggi escono le sfide della settimana numero 7 non è che manca poi tanto io sono arrivato allo stagionale 93 sto davvero puntando di prepotenza a livello 100 per ottenere lo standardo nuovo che vandrà a sostituire quello della season numero 6 ma quindi ragazzi, ciancio le bande e bando alle ciance andiamo subito a vedere la prima immagine la più importante ragazzi, la classica come vi avevo anticipato nel video di ieri le televisioni da qualche ora hanno cominciato a mostrare allerta meteo c'è una tempesta, lo sappiamo che sta per arrivare noi, loro pensano che è una tempesta noi sappiamo in realtà che si tratta di tutto l'evento e questa è la televisione una tra le tante che vedrete nella mappa se ci andrete a fare caso vi ricordo anche che dopo quell'immagine vedremo questa immagine invece che è la successiva per terminare poi con questa immagine dove c'è proprio la faccia dell'ice king come possiamo vedere sullo sfondo che interrompe tutti i segnali televisivi e darà ufficialmente il via all'evento che sarà di dimensioni veramente notevoli ma andiamo avanti ragazzi e parliamo appunto di quello che è questo evento molto velocemente ve l'avevo già fatte vedere anche ieri ci saranno un sacco di sfide ma veramente tantissime da affrontare che ci daranno un bel po' di roba gratis lo abbiamo già visto la nuova camo ci daranno il nuovo deltaplano ci saranno i punti esperienza ma se andiamo a vedere ragazzi c'è una voce che deve essere un po' più sopra è questa qua destroy ice brutes bisogna distruggere i brutti e che cavolo sono i brutti? non sono questi ce l'ho più avanti questa ragazzi è la roccia da dove verranno generati i nuovi mostri ragazzi le avevamo già viste per l'evento di Halloween le pezzi di cubo viola questi invece saranno ghiacciati saranno di colore azzurrino più o meno ovviamente non prendete in considerazione i colori che state vedendo perché sono quelli delle texture che devono ancora essere inserite nel gioco e colorate con i colori giusti i mostri ragazzi sono questi due che state vedendo alle mie spalle mi piace un botto quando Epic Games mi va a riciclare la roba di violenza ragazzi GG questi sono nient'altro che la versione di ghiaccio dei mostri che avevamo già visto nell'evento del Fortnite Mers quindi ragazzi aspettatevene delle belle sicuramente dovremo ancora a che fare con loro due dovremo killarne un bel po' per ottenere chissà quale premio dalle sfide ma andiamo avanti ragazzi non fermiamoci e parliamo di un argomento interessantissimo che forse a un po' di voi è sfuggito beh ragazzi quella che vedete proprio qua sopra è la mappa di 5 settimane fa quindi indicativamente all'inizio della season 7 quella che vedete di là invece è la mappa aggiornata a una decina di ore fa come vedete se guardate attentamente la neve si sta espandendo lo notate molto bene nella parte del fiume questa guardate qua arriva qua e se andate a vedere di là vedete che ce n'è molta di più ma la si nota anche in alto ecco qua io finisco purtroppo la la dimensione ma sopra dove c'è pinnacoli la neve si sta espandendo quindi ragazzi lo abbiamo già visto una mappa innevata nel giorno di Natale se avete giocato a Fortnite il 25 dicembre la mappa era completamente innevata ne vedremo delle belle anche in questo caso perché la neve sta continuando ad espandersi ma andiamo avanti ragazzi e parliamo di una roba incredibile questa è una texture ragazzi che è stata trovata nei file di gioco non si sa bene che cavolo sia se sarà una camo per le armi se sa non lo so non ne ho idea si chiama sleep pattern quindi potrebbe essere una camo però la chiamano wrap non lo so ragazzi è stata trovata nei file relativi all'evento alle rune del cubo oramai è ufficiale ragazzi il cubo in qualche modo tornerà staremo ovviamente a vedere in che modo ma parliamo di un argomento ragazzi molto interessante che è finalmente il nuovo starter pack è ufficiale ragazzi vi posso confermare al 100% che la skin non mi ricordo come si chiama farà parte del starter pack perché vi dico che è ufficiale semplicissimo perché è apparsa da poche ore questa riga di codice che spiega esattamente si chiama cobalt la skin il nuovo starter pack come vedete si chiamerà cioè cosmetic source rtm cobalt starter pack quindi ragazzi vi posso dare la notizia ufficiale 5 euro se la volete ci saranno dentro probabilmente 600 vbucks di solito ci sono dentro otterremo la skin e il suo backpack che è praticamente lo scudo uguale a quello dello spaccatutto però un pochettino più grigio penso che me la prendo vale la pena molto carina molto carina ma andiamo avanti e parliamo al volo ragazzi delle sfide della settimana quelle che stanno per arrivare alle 15 di oggi ragazzi le vediamo una per uno c'è la prima sfida che è a stage quindi danneggiare fare danni ai nemici con di 200 in un singolo match quindi 200 di danni per i nostri nemici in un'unica partita ma è solo la prima fase distruggere gli aeroplani mi sembra di aver letto da qualche parte si parla di 7 aeroplani da distruggere adesso bisogna vedere che se gli aeroplani da distruggere possono essere anche quelli che state vedendo dietro di me ne ho appena preso uno che non sono pilotati cioè li distruggiamo la facciamo subito terza sfida eliminazioni con pistola 3 eliminazioni sarà una da 10 stelline cercare forzieri a loot lake o a frosty flight frosty flight deve essere rapide ghiacciate se non ricordo male loot lake vabbè lo sapete benissimo anche voi primo stage atterrare a salty spring salty spring è a sun gerald in poche parole lo sapete anche voi penultima sfida usare un rift oppure un rift to go quindi un come si chiama i rift portatili in poche parole in tre match differenti cosa cavolo corso commercio salty spring non me lo ricordo e l'ultima ragazzi visitare o l'expedition outpost non so secondo me ragazzi si parla delle tende quelle piccole cose rosse che ogni tanto troviamo in mezzo alla mappa dove ci sono dentro di solito un chest e un quad ragazzi insomma ne abbiamo viste di tutti i colori anche oggi spero ragazzi che il mio video vi sia piaciuto mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi ci vediamo in live anche con i video per le soluzioni delle sfide ciao 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 Grazie per la visione!